Con la pandemia a cambiare soprattutto la percezione dello spazio pubblico, un modo per molti per riscoprire aspetti inediti delle città, ma anche una fonte di ispirazione per i tanti artisti che in quello spazio ci lavorano. Una dimostrazione è il numero sempre maggiore di persone che decidono di partecipare agli street art tour. Nel caso di Roma si è raggiunto anche talvolta il doppio dei clienti abituali. L'interesse verso la street art sicuramente in questo periodo è aumentato dato che tutti i luoghi canonici che normalmente si possono visitare sono chiusi e quindi i musei non sono fruibili. La street art ci offre la possibilità di poter visitare la città, fare dei tour e ammirare un qualcosa di contemporaneo e moderno che varia e che può cambiare anche all'interno di una settimana, due settimane, un mese. L'emergenza covid, specie nel caso di una forma d'arte che predilige più di tutte le altre, l'attinenza con la realtà continua a dare vita a molte opere d'arte. Quest'opera ispirata al tema covid è stata realizzata all'epoca del primo lockdown nazionale, quando ancora le restrizioni erano in vigore. L'artista ha deciso di violarla ed è l'unica opera che è stata realizzata su ciò che resta di un acquedotto romano di duemila anni fa. L'artista che ha deciso di restare anonimo racconta ad Euronews che cosa significhi per lui oggi lavorare al tempo del covid. Il passato non è un morto da tenere sotto vetro e da venerare. Se fossimo in grado di stabilire con lui delle relazioni, di capire quanto ci appartiene e di porgli delle domande, allora non sarebbe più un mucchietto di sassi, ma ci parlerebbe e ci darebbe molte delle risposte ai nostri problemi di oggi. Il fatto stesso di essere pubblica e senza filtri permette a questa forma di arte di dialogare più facilmente con il pubblico. La street art ritrova se stessa durante i periodi di lockdown perché produce i concetti, le idee e quello che gli artisti dicono a nome della società, il modo in cui la vorrebbero cambiare, vorrebbero che fosse. Nonostante i divieti e le restrizioni all'interno di una città vuota, l'artista più di altri riesce a scorgere i problemi che la affliggono. Il fatto che la città è stata spogliata dei suoi abitanti e ciò ha messo a nudo le contraddizioni e l'insostenibilità della sua organizzazione ecologica, sociale ed economica. Però questo è anche un momento quindi per ripensare e reinventare tutta la vita della città. La sfida del nostro tempo suggerita da un panorama urbano in continua evoluzione è proprio questa, capire come reinventare lo spazio cittadino dopo averlo riscoperto. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.